Urla dall'esterno della casa del grande fratello Vip. Mentre Aldo Montano si trova in giardino con Manuel, Katia e Nicola sente delle urla provenienti dall'esterno. La ragazza all'esterno, prima di insultare pesantemente Alex Belli, è andata dietro le mura del grande fratello Vip, per urlare ad altri vipponi. In questo caso le sue parole sono state rivolte a Manuel Bortuzzo e Aldo Montano, cercando di metterli in guardia. Aldo, fidati di Manuel e Gianmaria, ha gridato la donna fuori dalle mura del GF Vip. Aldo, fidati di Manuel e Gianmaria. Per gli amici della rete questo sarebbe un chiaro avvertimento proprio nei confronti di Alex Belli, invitando i due a mantenere le distanze dall'attore. Proprio stamattina Alex e Aldo hanno avuto un nuovo confronto nella speranza di poter mettere da parte gli ultimi malintesi e ricominciare da zero. Ci riusciranno? Cosa ne pensate delle parole di questa donna che prova a mettere in guardia Aldo dalla falsità dimostrata questi giorni? Scrivetelo nei commenti. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale. Se ti fa piacere, ho anche qualche video consigliato per te.